Allora, eccolo il dolce. Eccoci. Delizioso. Assaggialo tu. Fidati una volta di me, ti prego. Vai per me Roberto, ti prego. È particolare. Va un attimo riequilibrato. Eh Roberto? Cosa dici? È delizioso. Magari è delizioso o no. Però secondo me il cioccolato e l'acciuga non ci sta così bene. Ti ringrazio, sai, per avermelo fatto. Perché queste chicche non bisogna perdersene. Vedi? Allora, ti volevo dire che mancano quattro minuti. Ok, ce la facciamo. Ce la facciamo. Sì, assolutamente. Certo che ce la facciamo. Ho assaggiato cose che voi umani non potete nemmeno immaginare.